Ciao a tutti, Golden Goose, da risuolare, da cambiare passione e la suola. Lavoro finito anche sulle Gold, cambiato il fascione, rimesso con lo stesso effetto rugoso come l'originale, puntina sopra come l'originale, suola all'isca di pesce, pulite, sanificate con l'ozono, facciamo spedizioni in tutta Italia, mi contattate su Whatsapp e ci mettiamo d'accordo. Ciao!